...durante tutta la campagna elettorale, ma io chiudo con l'ultima domanda al sindaco che è questa, perché devono votarci il 26 maggio gli eruvini? Perché il 26 maggio c'è il vero ballottaggio ragazzi ci sta il nuovo che è rappresentato da noi, una diversa idea di gestione del comune fondata sulla managerialità sull'imprenditorialità e sulla progettualità e dall'altra parte ci sta, va bene, chi ha governato ancora? la lista degli Ed Kong, noi ci immaginiamo ragazzi di quello che vi possono raccontare tutte le pensiere che volete ma la lista degli Ed Kong, capitanata dall'amico Farnetti, è semplicemente propedeutico a una spartizione delle poltrone lì ci stanno specificità per tutte le stagioni, va bene, da coracci fino, ma non per qua, qui dentro no quindi ve lo dico subito, votare da noi a sinistra, scegliete quello che vi pare, significa votare per questi casi dovunque la mettete, votate per questi casi grazie grazie